Non aveva con sé la documentazione di provenienza e di identificazione dei fiuti relativa a un'autovettura da lui trasportata. È stato denunciato e stato in libertà dalla polizia stradale di Prato La Peligna, il conducente dipendente di una società operante nel settore delle autodemolizioni e della gestione dei trasporti. L'uomo è stato fermato nell'area di servizio Brecciarola Sud della 25. La stradale aveva sottoposto a controllo la bisarca con cui il conducente stava trasportando le tre dovetture destinate alla demolizione e attività da eseguire presso la stessa società di lavoro del conducente autorizzata come centro di raccolta. Dei tre veicoli una Mercedes classe A risultata priva della documentazione relativa alla sovravenienza al previsto formulario di identificazione dei rifiuti. L'auto infatti non bonificata e munita ancora di batteria e oliomotore sarà classificata come rifiuto pericoloso identificato come riportato dalla questura dell'Aquila. Il conducente addetto al ritiro materiale del veicolo aveva preso in carico l'autovettura senza prima compilare il formulario di identificazione. Dopo la sua denuncia sono in corso ulteriori verifiche a fine di accertare la corretta gestione nel trattamento dei rifiuti.